Affinata la rastremazione delle pance, disegno che consente di migliorare l'efficienza aerodinamica del retrotreno e dunque le qualità di trazione in uscita curva. Interessante la feritoia longitudinale integrata nello scalino muso-scocca che di fatto ha funzione di presa d'aria e consente di mantenere attaccata la vena fluida alla scocca, migliorando l'alimentazione della presa dinamica e dunque l'efficienza del motore.